Bellomo calzature per bambini da 0-12 anni, via Cannaviello 86 a Villino. La tentata truffa, come quella consumata, vanno denunciate. Questo l'appello dell'arma dei carabinieri che ha sollecitato i presenti presso la sede della Proloquo a Mercogliano a non sottovalutare alcun segnale sospetto. Denunciare chiamando il 112 o recandosi in caserma, questo l'invito del capitano De Paola al quale è seguita una proposta da parte di Dom Italiano della Salla. Fornire informazioni, elementi, recandosi personalmente in caserma o segnalando al 112 tramite l'utenza di emergenza 112 questi fatti, questi eventi, è doveroso, giusto e da un punto di vista giuridico ma anche da un punto di vista civile far trapelare questo tipo di informazione a favore della forza di polizia presente del territorio. Ecco, io stavo pensando di creare in parrocchia, di suggerire, di cominciare a pensare a uno sportello informativo nelle nostre parrocchie per dare notizie e semmai per raccogliere anche, non dico denunce perché non possiamo farlo, ma per raccogliere segnalazioni, insomma collaborando poi con i carabinieri si collabora su tanti campi, ecco questo sarebbe un altro campo sul quale poter dare un piccolo contributo agli anziani e alle forze dell'ordine. Il combito essenziale in questo momento è quello di accorciare le distanze anche da un punto di vista fisico. La formalizzazione dell'atto di denuncia non è prescritto da nessuna parte, in nessun codice che debba essere fatto esclusivamente presso il presidio dell'arma dei carabinieri in questo caso o di qualsiasi ufficio di polizia. I carabinieri formalizzeranno la denuncia o comunque raccoglieranno la testimonianza di quanto è venuto anche presso il domicilio, laddove c'è un elemento come la distanza, l'invalidità da parte della vittima, la difficoltà di mobilità, ecco è superabile sicuramente in una forma di servizio a domicilio.